Sono circa 700 le firme di operatori economici, residenti e utenti delle diverse attività presenti nell'area di Via Cetteo Ciglia, raccolte contro l'introduzione della sosta a pagamento. A consegnarle nella giornata di ieri al sindaco di Pescara Carlo Masci e all'assessore alla mobilità urbana Albo Remascia è stata una delegazione di CNA Abruzzo guidata dal presidente provinciale Cristiano Doardi. L'amministrazione comunale a margine dell'incontro ha annunciato alcune novità. La prima ora gratuita per l'esibizione del discorario, la tariffa successiva alla prima ora scende da 2 a 1 euro per 60 minuti, la tariffa giornaliera costerà 5 euro mentre il costo dell'abbonamento mensile è fissato a 15 euro. La confederazione delle piccole e medie imprese però si dice delusa dalle risposte ottenute dopo l'incontro e si aspettava alcune agevolazioni in più, quantomeno per le famiglie che vivono comunque in una zona periferica della città. Il tempo che è sbagliato dopo due anni di pandemia, crisi energetica, aumento di costi, di bollette e quant'altro, diciamo che questa situazione sia per i residenti sia per le attività commerciali, tra l'altro non tantissime perché negli anni purtroppo alcune hanno avuto difficoltà e hanno dovuto abbandonare la propria attività, diciamo che non era il momento ideale per poter fare questa operazione. Il comune di Pescara ha lavorato e continua a farlo per aumentare la disponibilità di una mobilità sostenibile in città ma questa svolta green, prosegue Odoardi, non può riguardare una zona mal servita da questo punto di vista. Se ci fossero piste ciclabili a servizio di quell'area, se ci fossero delle strade educate per potersi muovere con il monopattino piuttosto che altro, se ci fosse un servizio pubblico efficiente, lì l'autobus sulla Tiburtina tra l'altro passa una volta ogni mezz'ora, uno magari potrebbe anche pensare che ha un senso, io la vedo addirittura al contrario, quella è un'area che dovrebbe essere di parcheggio gratuito per poi far prendere mezzi pubblici o comunque di mobilità sostenibile per andare al centro e non intasare il centro cittadino di veicoli. Non diciamo che quello è il motivo perché si mette il pagamento, c'è una necessità, peraltro comprensibile, io non voglio di fare cassa e questo è.